Mi sembra veramente una polemica giusto per farla polemica, perché se ci riduciamo a nulla vuol dire che la Rea dà un giudizio positivo su questa amministrazione rispetto allo sfascio di altri enti che mettono i lavoratori in mezzo a una strada, le partecipate che chiudono per fallimento, il comune che invece in un momento di crisi, devo dire con l'aiuto semplicemente dei lavoratori e dell'amministrazione, dei cittadini che hanno avuto pazienza, sta risanando, non licenze, addirittura assume, ha fatto anche purtroppo per lei uno sbaglio, perché noi abbiamo ridotto notevolmente gli staffisti, abbiamo addirittura dimezzato, esattamente dimezzato le spese rispetto all'amministrazione precedente, spiace che pur di far polemica un segretario o un sindacato sbagli anche nel far polemica, ma io restituisco invece la polemica inutile con la provocazione della collaborazione, noi abbiamo bisogno di Annaree, abbiamo bisogno dei sindacati, abbiamo bisogno dei sindacalisti, quelli veri, quelli che non pensano a polemiche inutili, ma invece insieme a noi a costruire una Napoli migliore che si fondi soprattutto sul lavoro e io devo dire che con i sindacati e con i lavoratori stiamo facendo un bel lavoro, proprio ieri sera fino a tarda sera sono stati tutti i sindacati di Sapna, abbiamo fatto un lavoro straordinario, quindi veramente credo che bisogna criticare quando è giusto criticare, ma se non c'è da criticare è inutile inventarsi storie che non esistono.